Ovunque nel mondo Royal Canin sviluppa con passione il territorio della nutrizione e salute al servizio del benessere dei cani e dei gatti. Royal Canin con i suoi prodotti di qualità ineguagliata è un'azienda unica e veramente differente. Barbone Nano Nero, Barbone Nano Albicocca, Maltese, Bolognese, Cavalier King Charles Spaniel, Carlino, Epagnol Nano Continentale Papillon, Boston Terrier, Shih Tzu, Chinese Crested Dog Piumino di Cipria, Tibetan Spaniel, Havanese, Bichon Havanese, Coton de Tulea, Grifoncino Belga, Chihuahua a pelo lungo e Chihuahua a pelo corto. Qua abbiamo i piccini. Ecco, qual è la caratteristica di questa selezione? Questo raggruppamento prevede... Sotto i 32 centimetri? No, non è la taglia, infatti abbiamo dal Chihuahua ma arriviamo ai 60 centimetri del barbone Grande Mole. Abbiamo soggetti selezionati per la compagnia, derivano per esempio da cani da caccia molto piccoli. Ho capito. Il raggruppamento dei cani da compagnia. Il primo sembra finto. Il primo sembra finto grazie alla toilettatura che contraddistingue la razza. Sono solo tre le toilettature con cui può essere presentata. Abbiamo già una preselezione. Chihuahua a pelo lungo. Dal Messico. Dal Madagascar abbiamo il Coton de Tulea. Dalla Cina ma con standard britannico il Chinese Crested Dog. Già selezionati e gli altri vanno a casa. Regno Unito e Maltese. Devo dire che... Ecco c'è da dire che questo giudice ha fatto molta preselezione già nel pre-ring. Evidentemente non è casuale che abbia fatto una preselezione. Poi a parità di distanza si può vedere più movimento sul cane piccolo per cui... Ecco è la prima volta che viene usato qua nel ring il tavolino. Questo è stato tirato su come se fosse finto. Sì. È vero? Razza antichissima quella del Maltese. Deve avere un pelo come se fosse un vestito di seta. Non deve essere svolazzante o lanoso ma deve essere pesante e setoso. Caratteristica della razza è anche quella che non deve avere gli occhi neri bensì ocra per accentuare l'intensità dello sguardo. Si muove e sembra finto. Infatti perché non si vede il movimento ma i giudici più esperti valutano dalla posizione dei polpastrelli la correttezza del movimento. Ah ecco. Ma dei polpastrelli del padrone o dei polpastrelli del cane? No no, dei polpastrelli del cane sì. Che comunque devono essere pigmentati. Ovvero scuri. Vedi che è usanza mettere il pettine alla base della coda di cavallo. Marco io e te non possiamo farlo. No io e te non. Neanche il giudice. Diversi giudici. È andare di là. Dove è andato? No niente. Parlavamo di pettine. Delle cose che io e lei abbiamo dimenticato da anni. Cane nudo cinese lo vediamo nella varietà col pelo perché la natura fa sì che nella stessa cucciolata possano nascere cani senza pelo e cani col pelo. Si dice che sia un adattamento naturale in realtà è semplicemente dovuto a casistica genetica per tenere al caldo i soggetti privi di pelo. E questi per i... Come si dice noi? Per i... No per i... Gli handler. Gli handler. Sì. È un momento di massima tensione. Sì. Decisamente. Perché dai particolari può dipendere da come tiene o meno il cane può dipendere la vittoria o meno. Cavalier King Charles, razza britannica, deriva da piccoli cani da caccia che i cavalieri appunto donavano alle dame. E' una razza che è diventata famosa grazie al telefilm Sex and the City. Ah ecco. Negli Stati Uniti, sì. E questo? Questo è un cane molto particolare. Si dice che derivi da una nave spagnola fondata a largo delle coste malgache del Madagascar e questi cani che hanno raggiunto a nuoto la riva poi si sono riprodotti cacciando piccole prede in questo territorio ostile e abbiano dato origine a questa razza. Probabilmente di vero c'è che deriva dai cani di tipo maltese presenti sulle navi per cacciare i topi. E in questa terra è stata selezionata questa tessitura del pelo particolarmente cotonosa. Ultime cinque cani per i tre posti. Tre posti, cinque soggetti per tre posti. Una cosa più importante è il podio più alto perché il podio più alto tra l'ultima selezione e poi ci sarà il bestie show. Infatti. Di dieci cani si contenderanno il bestie show. È un cane da taschino questo. Sì, infatti. Ultimo giro. Saluti del giudice. E adesso è qua. Vai. Ok. Sì. I tre posti sul podio. Number three. Il giudice saluta il numero tre. Al terzo posto, Chinese Crested Dog Paterpuff. Al secondo posto, Chihuahua, rappresenterà i cani da compagnia il maltese. Il gomitolo di seta ambulante vince il primo posto. Al secondo posto, Chihuahua, rappresenterà i cani. Il giorno dopo, Chihuahua, rappresenterà i cani. Grazie.